Metti un podere nell'entroterrafogiano, in zona Borgo Tressanti, vicino a Cerignola. Metti la volontà di fare festa, incontro, musica e aggregazione, non necessariamente in riva al mare, come da abitudine estiva, e nasce un picnic col vino sotto le stelle. Un'esperienza coinvolgente e per certi versi alternativa, che fa della valorizzazione dei prodotti locali, della genuinità e dell'immersione agreste, i suoi tratti salienti. L'idea è in parte importata dalle campagne napoletane, come spiega Ilaria di Podere 29, uno dei tanti di questo tratto dauno fatto di grano, oliveti, pomodori, vigneti e frutteti. Sono anni che giriamo per le aziende vinicole, io da Buona Campana, di nascita, ho detto sempre che dobbiamo organizzarci per fare anche noi questi eventi. Quest'anno, che con l'estero è un po' tutto fermo, abbiamo detto adesso ci organizziamo. Il picnic sotto le stelle in compagnia del vino e dei prodotti tipici, in particolare caseari, della zona ufantina del tavoliere, visto il gradimento, verrà ripetuto il prossimo 25 agosto. Wine Net Sunset parte secondo, saranno con noi delle aziende che non sono solo dei colleghi, sono dei grandi amici. Ci sarà la porchetta originale di Arriccia, ci sarà il forno Michele Cellammaro di Cerignola e le mozzarella di Bufala della Campania.